Scivola ininterrottamente per 30 metri sul ghiaccio, allora potete completare l'incarico in più modi, vi mostro due modi. Allora, il primo sarebbe, tirate qua a bastione brutale, come vedete qua trovate già del ghiaccio, prendete una ricorsa, iniziate a scivolare, non appena avete completato 30 metri avete completato l'incarico. L'altra possibilità sarebbe, andate alle isolette glaciali, praticamente sarebbe il lago ghiacciato, proprio qui, ve lo mostro in cartina, prendete la ricorsa qui e scivolate per 30 metri e avete completato l'incarico.